Gli agenti del commissariato di polizia di Fano hanno denunciato all'autorità giudiziaria due cittadini romeni provenienti da un campo nomade nel Torinese, uno dei quali un quarantenne già noto alle forze dell'ordine per possesso ingiustificato di strumenti da scasso. I due erano stati notati dagli agenti a bordo di un'auto con targa straniera mentre si aggiravano nel quartiere di San Lazzaro nelle prossimità di Via della Repubblica come volessero controllare le abitazioni della zona. Il sospetto negli uomini del commissariato è stato che potessero trattarsi di potenziali ladri in perlustrazione per poter fare qualche colpo in appartamento e quindi li hanno fermati ed identificati. Durante il controllo dell'auto i poliziotti hanno rinvenuto un cambio di abiti da utilizzarsi presumibilmente una volta effettuato il colpo per far perdere le tracce. Un lungo cacciavite, un taglierino e dei guanti da lavoro. Gli accertamenti inoltre sui nominativi poi evidenziava che uno dei due aveva già precedenti per reati contro il patrimonio. Nei suoi confronti inoltre è stato quindi emesso dal prefetto un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per ragioni di sicurezza. Questo risultato è frutto di una vasta operazione condotta nei giorni scorsi dagli uomini del commissariato fanese sia in borghese che in divisa e con auto civetta, coordinati dal dirigente Stefano Seretti per contrastare il fenomeno dei furti in abitazione nelle zone residenziali e più densamente popolose della città, partendo da un'approfondita analisi dei dati in possesso che ha permesso di focalizzare i controlli nelle zone e nelle fasce orarie più sensibili al fenomeno. Inoltre, grazie ai sistemi di videocontrollo dei varchi della città che consentono la lettura delle targhe, sono state identificate 110 persone e controllate 52 automobili e recuperata anche un'autorubata a Pesaro, una Fiat Panda rinvenuta dai poliziotti in via Palazzi. I controlli inoltre hanno permesso di identificare un giovane, appena maggiorenne, il quale è stato trovato in possesso di 20 grammi di marijuana che sono stati sequestrati dagli agenti ed il giovane poi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.